Sì, dico, le capacità di Angelozzi dovrebbero dimostrarsi anche, non dico soprattutto, ma anche come direttore generale, perché una volta finito il mercato, una volta penso che il Bari abbia necessità di una persona che diriga un po' il tutto, che faccia da tramite, tra settore tecnico. Però credo che questo non sia nelle corde di Angelozzi, credo che Angelozzi sia un direttore sportivo puro. Mentre magari Perinetti aveva l'ambizione forse proprio di far questo, cioè di fare una sorta di direttore generale. Forse, ecco, è la figura che manca nel Bari. C'è un amico in linea, prendiamo la telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Gianluigi da Bari. Ciao Gianluigi, ciao. Ciao, volevo chiederti, ma di capelli dell'Atalanta in difesa non si è saputo più niente? No, è un giocatore che da tanti anni si dice che possa interessare al Bari, però francamente non è riduci da grandissimi campionati. È un'altra promessa, è un giocatore dell'Under 21, un giocatore estremamente valido, però se non se ne sta parlando vedremo, vedremo. Il mercato del Bari questa volta è veramente a carte coperte. Con Perinetti riusciva a capire qualcosa, riusciva a capire da che parte stessero andando. Con Angelozzi credo che sarà molto difficile scoprire le carte e probabilmente avremo giocatori così all'improvviso, giocatori che magari non ci aspettiamo. Sono convinto che cambierà anche nelle modalità il mercato del Bari. Con Perinetti spesso eravamo in grado di anticiparvi i nomi, perché c'erano movimenti di un certo tipo. Con Angelozzi vedrete che sarà più difficile, anche perché Angelozzi parla meno del suo predecessore. Enzo, io volevo confermare quello che dicevi prima e dire che dobbiamo fare affidamento anche molto su Belmonte, perché l'anno scorso mi ha sorpreso positivamente la sua escalation, il suo miglioramento partita per partita. Dare fiducia a questo ragazzo non è assolutamente da scartare, può essere una valida alternativa, una valida riserva, però l'occorrenza può dare molto e può servire moltissimo alla squadra. C'è un amico in linea, pronto? Niente, abbiamo perso la telefonata, 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Abbiamo ancora qualche minuto. A conferma, finisco, tenere Belmonte, a conferma di una base, di una struttura già consolidata, già buona, a cui apportare qualche miglioramento, qualche inserimento magari in ruoli importanti. e io penso che dovremmo confermare la buona stagione fatta l'anno scorso. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, ciao Massimo D'Accorato. Ciao Massimo. Allora, volevo intanto salutare Mariano, siamo amici. Il cuoco, eh. Eh sì, tra l'altro faccio pubblicità perché si mangia veramente bene alla pace di senso. Ci sei convincendo, mi stai tirando, insomma, prima di un saluto a Corato, alla pace di senso. Poi mi piace sto nome proprio, è bello, eh. E anche il Cavallo. Eh, anche la Carli Cavallo non è male. Senti, due cose. Allora, la prima, concordo con Ventura quando dice che non può prescindere da Barreto perché trovare un altro attaccante che fa 15 gol, insomma, in un campionato, poi per un'altra squadra come la nostra che si deve salvare, non è facile, insomma. Quindi ormai lui è negli schegni e quindi ritengo che è chiaro che gli interessi molto questa cosa. Poi l'altra, si parla di Angelotti in entrata, io mi auguro che insomma faccia il suo lavoro, ma non dimentichiamoci che secondo me per fare anche una buona squadra e per prendere buoni giocatori deve vendere anche, insomma, dei rami secchi che abbiamo e ce ne abbiamo parecchi. Credo che sia la mission quasi impossibile di Angelotti, molto difficile perché ci sono dei giocatori che davvero, insomma, io penso che, insomma, le voci a proposito di Angela facciano il giro d'Italia, è un giocatore che praticamente non ha mai giocato lo scorso anno, ci sono tanti giocatori che non sarà facile vendere, immagino Volpato anche, Volpato che, insomma, sono contratti niente male questi, indubbiamente un in bocca al lupo va ad Angelotti perché qui deve riuscire davvero a superarsi, perché non sarà semplicissimo. 080-501-9998, magari riusciamo a prendere un'ultima telefonata in diretta, quindi diciamo gli amici da casa si rendono conto che comunque c'è tanto lavoro da fare per Angelotti, non è una situazione molto semplice. Sì, sì, sfoltire la rosa sicuramente, avevamo tanti giocatori, mi viene in mente Sestu, preso a gennaio, ma che non abbiamo mai avuto... Però questi forse sono prestiti, non so se poi alla fine... Sono tanti i nomi che sono apparsi e non hanno avuto neanche il tempo di dimostrare il loro valore, per cui sfoltire la rosa e consolidare quello che c'è con qualche miglioramento. C'è un altro amico in linea, pronto? Sì, pronto? Sono Vincenzo da Bari. Ciao Vincenzo, ciao. Un saluto all'ospite. Ciao. Volevo sapere cosa pensate di Biagio Pagano della Regina, il nostro ex. Era un giocatore del Bari, Biagio Pagano, a me piaceva molto Pagano, esterno che farebbe al caso del Bari, perché uno che aveva gamba, c'è uno che attaccava e difendeva, noi lo ricordiamo perfettamente, peraltro è stato un giocatore determinante nella seconda salvezza di Carboni, con gol anche decisivi, ne ha fatti anche con la Regina. A me non dispiacerebbe, io poi non so, sai, qua ci vuole davvero l'occhio del tecnico, perché noi possiamo giudicare un giocatore rispetto a quello che fa in un campionato. La bravura del tecnico, la differenza rispetto a noi, e non a caso è un tecnico, e deve immaginarlo in Serie A, questo è il discorso. Noi per quello che abbiamo visto in Serie B, Pagano, tanto di cappello, è per me un ottimo esterno. Poi devi capire, magari Ventura, Bonucci, nessuno gli avrebbe dato un centesimo, perché giocava in Serie B tra Pisa e Treviso, Ventura, che lo segue ogni giorno, che ha una competenza supera alla nostra, ha visto in questo ragazzo la potenzialità da giocatore di Serie A e anche ad alti livelli. Quindi noi fino a un certo punto ci possiamo spingere, il resto lo lasciamo fare a chi di competenza. Poi anche la volontà del giocatore stesso, magari, di venire a Bari, di tornare a Bari, o fare esperienze diverse, guadagnare di più, per cui non è che le nostre voglie... Certo che il Bari dovrà avere qualche intuizione, sicuramente. Il mercato del Bari vive di intuizioni, cioè di giocatori che magari molti snoberebbero, il Bari deve essere bravo a capire, e a mio avviso il Bari pescherà molto dalla Serie B, pescherà molto dalla Serie B, ne sono convinto, capire quale giocatore che può dare un valore diverso in Serie A. Anche perché non ha una rete di osservatori che sono in giro a lavorare per il Bari. Quindi, ecco perché dicevo prima, Angelozzi deve essere bravo nelle conoscenze, nei rapporti che dovrebbe avere con altri suoi colleghi. Stop! Grazie a Vito Petruzzelli. Grazie a voi. Grazie anche a voi, ci ritroviamo domani sempre insieme. Anzi domani no, domani vanno delle repliche, ma daremo magari delle immagini anche datate, domani è un giorno di festa, anche noi ci faremo il venere e giovedì invece. Torniamo in diretta con Biancherosso di Vispor. Ciao! Grazie a Vito Petruzzelli.